Il fiume Piave a rischio, l'allarme è lanciato da Lega Ambiente Treviso. Soprattutto in Sinistra Piave, dove il ramo di Simadomo è completamente asciutto in questo periodo, ma addirittura perrenemente asciutto durante l'anno. Nella zona della Sinistra Piave noi abbiamo torrenti tipo il Negrisiam, la Lia, il Borniola, che stanno completamente perdendo tutta l'acqua. Per Lega Ambiente, di influire la portata sul flusso d'acqua dal fiume alle fasce delle risorgive, tra le cause, le escavazioni. Là bisognerà pensare proprio a almeno 5 anni di silenzio da questo punto di vista delle escavazioni, cioè non si scava più. A preoccupare anche la Golena invasa dai vigneti. Dovremmo pensare assolutamente a quale agricoltura sarà necessaria per gli anni a venire. Dobbiamo puntare su un'agricoltura ecosostenibile e tra l'altro dobbiamo anche pensare che l'Unione Europea per questi progetti ci può dare veramente dei contributi notevoli. Insieme al proliferare dei pozzi abusivi utilizzati per la coltivazione dei campi. Io credo che soltanto il 20% sia censito. Moltissimi pozzi freatici che pescono a 9-10 metri di profondità e sono stati fatti senza una regolare autorizzazione da parte del genio civile. Questo non può continuare a esistere perché molto spesso le secche vengono accentuate proprio da questo contemporaneo prelievo di acqua per irrigare i vigneti. Domenica il ritrovo sul Piave dalle 9 alle 12.30 per la visita guidata lungo la fascia delle risorgive. Appuntamento nel piazzale della chiesa di Candelù di Maserata.